Oggi è sabato, sto per bere il caffè, non ho ancora capito che cosa mangia la colazione, se due biscottini o non so Il programma di oggi è bello intenso, ho un sacco di progetti da fare, fra cui, udite udite, farò la pizza Anche perché ho pensato, ma scusate, ma che sfigata sono se alla fine di questa quarantena non sono riuscita a fare una pizza decente Se tutti quanti panificano e fanno pizze e io non riesco, ho l'aggeggio lì, che cavolo, usiamolo Quindi useremo insieme l'aggeggio per provare a fare una pizza decente, vediamo se almeno così viene E ora però devo riordinare un po' la camera, almeno il piano di sotto Ora riordino il piano di sotto e poi ci alleniamo e poi facciamo un sacco di altra roba, ho un sacco di cose da fare oggi Comunque ora faccio volanzi Prima della colazione mi tocca prendere il moment Io non so se capita anche a voi, io sono sempre soggetta a mal di testa Fra l'altro non imparo mai, perché ogni volta, ogni volta, penso, perché io ho mal di testa da ieri sera, cioè da stanotte Sono tre, ero ancora sveglia e avevo proprio male qui dietro, ma un male forte E mi fa male proprio a stare sdraiata E mi sono detta, dai, se mi addormento poi domani mattina mi passo Stamattina mi sono svegliata alle otto e mezza per il mal di testa, quindi moment è via Non imparo mai, il mal di testa non passa Non passa da solo, devi prendere qualcosa Se no non fa che peggiorare E non c'è niente di peggio che svegliarsi con il mal di testa Comunque io ho questo mal di testa forte almeno una volta al mese Facciamo anche due E a volte è così forte che mi viene quasi da vomitare Non quasi, che mi viene da vomitare Se non prendo le pastiglie, quindi sì Non benissimo, però insomma, cioè di peggio Alla fine con una pastiglia va via tutto Ovviamente deve partire quel cavolo di cocco Fra l'altro il cocco è sballatissimo Perché fa un orario ma canta un altro Tipo ora ha cantato le due Ma sono le nove E l'orologio fa le nove, non capisco Vabbè, insieme al caffè mi faccio due biscottini Sono i digestive Ci ho scoperto non avere prodotti animali Animali Non sono sempre loro perché Papà di nasci T'ho messo più umido che secco Se non lo mangi, veramente Dai, prova Prova un po' Anche perché devi prendere le medicine, eh Si ricomincia con gli antibiotici E gli antidolorifici, cara Questa è la situazione di zampetta Ancora un punto Il punto è blu Non so se si amore, scusa hai ragione Mangia pure Lo faccio vedere dopo Oi amore, puoi stare sul tuo terrazzo Sei felice? Sei felice? Sei felice? Sei felice? Ecco giù Brava Una grattatina Ah ecco qui vi posso far vedere il punto Un solo punto Quindi dai, ci ha notato benissimo di lusso La questione è questa Io volevo fare la pizza di sera Sabato sera pizza, no? E invece non farò così perché ci ho pensato Ed effettivamente Benché mi soddissimi maggiormente la sera Boh, boh Penso che prendere i 90 kg Siccome ne ho appena persi due Con tantissima fatica Sport, eccetera Onestamente di mangiare la pizza la sera E prendere del peso Anche no Quindi stavo guardando di farla a pranzo Ho preso questo libro che ci hanno dato col bimbi Penso che l'abbiano acquistato Se voi siete in dubbio se acquistarlo o no L'unico motivo per acquistarlo è perché è molto toccoso È morbido, morbido Stareste ad accarezzarlo tutto il tempo Perché è soft touch Però per il resto non ci sono ricette Ci sono consigli Cioè per me è assolutamente inutile Parli della pizza Non mi dai la ricetta della pizza napoletana Pizza romana bianca Fra l'altro mi dice che è anche da farcire dentro Quindi cioè De lasciarla No Cioè zero Non so come farvi capire Il taglio perfetto Come condirla, eccetera Ma non ci sono Cioè ci sono pochissime ricette Vedete l'intro della pizza Ma fammi Fammi almeno Dammi almeno la ricetta Cioè la ricetta della pizza romana bianca Vedete ma è bianca Non è neanche condita Poi io non voglio la pizza romana bianca Io voglio una pizza Che sia romana o meno va bene Però la voglio condita Cioè la focaccia Ci sono delle bellissime immagini Ma di questa Fammi la focaccia Almeno la focaccia genovese No Della focaccia Mi dà Focaccia soffice Soffice Che non è una ricetta E poi mi dà Come conservarla Pizza e focaccia Quali differenze Come se ve lo dovessi spiegare Mi dà la ricetta Della focaccia Al kefir Io voglio la focaccia genovese Se devo farla No E poi la focaccia di semola Anche questa Non mi sembra quella genovese Quindi questo libro Vabbè Gli ho dato la sfogliata Però ora vado a cercare online La ricetta della pizza Della pizza Ora quella al trancio Quella napoletana Quella romana Basta che sono la pizza E vedo quante ore di lievitazione Mi dà Se riesco a farla La faccio per il pranzo Che è meglio Ovviamente la pizza Non la riesco a fare Però ho trovato Una ricetta Fra l'altro Molto ben recensita Sempre dei bimbi Della focaccia barese Allora io farò L'impasto Della focaccia barese E poi ci sparo sopra La passata di pomodoro Invece che pomodorini olive Ci metto su La mozzarella Per me quella normale E per gli altri Quella Cioè Per gli altri Quella E buonanotte Per me quella vegana In realtà non ho la mozzarella vegana Ho un formaggio Vegano Che potrebbe Dovrebbe poter andare bene La mozzarella Non sono ancora riuscita a comprarla Perché Perché C'è sto coronavirus Del cavolo E quindi Tutti i siti che fanno spedizione Hanno lunghe lunghe Consegne E io non ho voglia Di aspettare 9000 anni Per avere un pacco di mozzarella Onestamente Non mi sembra neanche il caso Ho dovuto chiudere dietro Perché se no Non vedevate nulla Qui c'è il Bimbi L'ho appena lavato E appena uscito Dalla lavastoviglie Almeno il boccale ovviamente Partiamo benissimo Nel senso che mi sono accorta Che non ho Tutti gli ingredienti giusti Quindi Lo farò Con quello che ho Quindi La ricetta sbagliata Con gli ingredienti sbagliati Verrà su una merda Vabbè E Allora Quindi Vi faccio vedere Come cercare le ricette L'accendi Il bimbi Si posiziona Su questa schermata Di qua Avete tutte le funzioni Invece Slittando Dall'altra parte Dice Ciao Cosa vorresti cucinare oggi Quindi tu Prosegui Digitando Sono andata a cercare Era pizza Barese Ai pomodorini Era lei Ovviamente io Non la vedete 4.9 Vuol dire che ha Delle ottime recensioni Fra l'altro Sono anche parecchie Dall'app si vedono Ok Lui ti dà Una immagine iniziale Con Vabbè Ovviamente la ricetta E la foto Di come dovrebbe venire Poi Se voi scorrete Potete vedere Tutti gli ingredienti Che vi servono La preparazione Informazioni nutrizionali Che è anche utile Utensili vari E consigli Vabbè Inizia a cucinare E lui ti dice Pesa 350 grammi D'acqua È già tarato? Allora Contrariamente A quanto Faceva il bimbi vecchio Almeno quello A cui ero abituata io Questo pesa Ha una sensibilità Della bilancia Grammo per grammo E non ogni 5 Mi pare che fosse L'altro Vabbè Facciamo che 358 Va benissimo Avanti 15 grammi Di lievito Di birra fresco E io ce l'ho A santo graal E ora lo mettiamo dentro Non so voi Non so cosa vi ricorda Il lievito Ma a me ricorda La Sicilia E la zia Mimma Che purtroppo Non c'è più È già tarato Avanti Un cucchiaino Di zucchero Io ho quello lì Eh ragazzi Non ho lo zucchero Bianco Ho quello Quello di canna Quindi metterò quello Ce lo facciamo Andare bene ugualmente Ok 400 grammi Di semola Di grano duro Macenata Eccola Io la semola Di grano duro Macenata Non ce l'ho Ho la farina Manitoba E metterò quella Speriamo che la farina Non faccia Tutta la differenza Del mondo Speriamo Intanto metto Quel che ho Comunque Devo comprare Un cavalletto Per la macchina Fotografica 400 Non capiterà Mai più Di essere così Precisa Avanti 10 grammi di sale Quanti saranno Due cucchiaini 1 Sono diventati 12 Mettere il coperchio Ok Avanti E poi Velocità 6 Ok Avanti Lasciare Levitare L'impasto Nel boccale Fino al raddoppio De volume Lui si è aperto Nel frattempo Vediamo che punto sta Mi sembra Liquidino Ma siamo sicuri Di questo? Ma siamo sicuri Sicuri? Allora L'ho posizionato Sotto la luce La situazione È questa Vi faccio vedere Un po' La consistenza A me sembra Un po' Liquidina C'è Molto appiccicosa Ma secondo voi È giusta? Lo scopriremo Solo vivendo Tiro giù Con il capentolo Tutta sta roba Lui è arrivato qua Quindi T'ho due dita Sotto l'uno Vediamo Quando raddoppia Il suo volume Poi raddoppia Il suo volume Vediamo se cresce Nella prossima mezz'ora Quindi lo richiudo Con il suo tappo E gli do fiducia Anche se io Onestamente Avrei messo Altra farina Così ad occhio Però faccio sempre Il tempo a metterla Giusto? Sospettare che Invece la farina Fosse fondamentale Visto che sono Solo tre ingredienti Libito Acqua e farina Penso che la farina Fosse fondamentale Aia 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 non verrà niente Aia Verrà uno schifo Vabbè Noi lo facciamo Lo stesso Vediamo cosa viene fuori Poi la situazione Della cucina È disastrosa Devo pulire il piano cottura Ho 9000 computer lì Panni ovunque Per non parlare Del divano Per non parlare Di per terra Roba 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 Guardate La plastica Che cosa sta facendo Sta prendendo vita propria Anche la carta Non scazza un cavolo Quindi ora Riordino questo Non ho alcuna scusa Dai Mentre Mentre quello lì Evita Io riordino tutto Metto un po' di musica La mia amica Alexa Ci aiuterà L'altra volta Quando ho detto Alexa Una In un video Che ho chiesto la musica Una ragazza Mi ha Mi ha scritto Mi ero iscritta Dopo che hai citato Alexa Mi sono disiscritta Quindi deve esserci una setta C'è una Alexa C'è una setta contro di te Purtroppo non trovo la risposta Diciamo che non sa nulla Fidazione attuale La patomera sta esplodendo sempre più Lì c'è ancora casino Qui un pochettino di meno Casa Almeno la parte sotto è quasi pulita Ora devo riordinare Perché per pulire Io sposto tutto quanto Ora ho sul divano il mondo Sta andando l'aspirapolvere Quella piccolina Che va automaticamente E andiamo a vedere La pasta che ormai Passata più di un'ora Tra l'altro Ho seguito il consiglio Porca Eva Levitare ha levitato Che bomba Sto ancora levitando Vedete bollicino Ma ora la tocco di sole Sicuro lo distruggo Ma che figo Vabbè dai facciamo quello che dice Ungere con abbondante olio La teglia Unto con abbondante olio E poi Avanti Questo è il momento in cui distruggo tutto Trasferire l'impasto Nella teglia preparata E facendo pressione con i polpastrelli Allargando fino a coprire tutta la superficie Ora faccio un bordello Già lo so Non lo faccio con la fotocamera Mi dispiace Devo comprare un cavalletto Comunque ora Con uno schiacco di dita Da lì Ci trasferirà a lì Quindi Uno Due E tre Allora Fail Fail totale È mollissima Però io continuo ad essere fiduciosa Anzi l'ho piazzata con Perché se ci mettevo per sbaglio Un canovaccio Praticamente non lo toglievo più Cioè rimaneva appiccicata tutta Allora io Per farla lievitare La piazzo sotto alla lucina Questa qui che ho Del Che però non è Non credo che sia calda Ora ci penso Vabbè E comunque gli ho messo tipo la pellicola Come per i fanghi della cenica Se funziona con i fanghi Funzionerà anche con la pizza Questa è la mia Teoria Allora andiamo a riattivare Il bestiolino qui Che continui Fra l'altro ho seguito Amico Su Dai Vai Ho seguito il consiglio Della superstar Mia amatissima Allora dicevo La superstar ha detto Che lei Aspira Le perle Di Le noir La stoppable Con l'aspirapolvere Per far diffondere Il profumo nell'aria L'ho fatto sia con il Dyson Anche con Amichetto qui E funziona Funziona Quindi Grazie ancora una volta alla superstar E Consiglio Assolutamente Vavido Perché praticamente Lui l'aspira E poi il profumo Si diffonde nell'aria Molto figo Levitare ha levitato E questo è il secondo momento In cui io faccio un disastro Uè E Ho qui la Passata di pomodoro Con basilico E gliela piazzo sopra Direi Ma io non voglio Che mi si smonti Come facciamo? Comunque intanto Sto preriscaldando Il forno A 230 gradi Ora questo è Dopo che l'ho spennellata Inevitabilmente Alcuni buchetti Alcuni Bollicine di pasta Sono scoppiati Ora quasi La chiudo un attimino Fino a quando non si Preriscarda il forno Così magari Lievito un altro po' Non lo so Così Scaldato Ho tagliato Un po' di formaggio Quello vegano L'ultima volta Che l'ho usata Non è andata bene Sulla pizza Però l'avevo grattugiato Secondo me Così è meglio Proviamo E non ho la mozzarella Vegana come ben vedete Però ho la mozzarella Normale Questa è pure di bufala Quindi sarà bella cosa E vabbè fa niente Ma ho solo quella E la volevo usare Poi ho preparato Il sale L'olio E un po' di origano Da mettere sulla pizza Che ho richiuso Prontamente Per cercare Di far limitare Un altro po' Ho messo l'olio L'origano Un po' di sale In forno Speriamo di metterla Nella parte bassa Quindi l'ho messo In basso In basso Un minutino Anzi due E ora ci pezzo Sulla mozzarella Il formaggio vegano Vediamo come viene Oggi Tra virgolette Messi Vabbè Speriamo Ne ho messo Molto poca Di vegano Per non Così se fa schifo Non rovino tutta la pizza Rinforno Per Doveva essere Un totale di 15 minuti Vabbè Vediamo quando è cotto E poi farò l'altro Qui su questo formaggio vegano L'immagine È questa qua Ma non viene Così neanche Per Per sbaglio Cioè non ci assomiglia Neanche vagamente Ora vi farò vedere Ditemi se questa immagine Non è un inganno Dopo che lo vedrete Cioè almeno L'altra volta Si era tutto seccato Ed era una crosta dura Faceva schifo Per questo ne ho messa Così poca ora Perché in realtà Poi Sulla pasta Per esempio È molto buono Questo qua Grattugiato Però È molto dolcino È buono Però sulla pizza L'altra volta Aveva fatto un disastro Quindi ora Ho provato a farlo Diversamente Ma Sempre usando lui Ed è fatto con Olio di cocco E questa è la mia Scatolina Dei formaggi vegani Nel frigorifero Vabbè Diamo gli speranza Però insomma Vedremo E vegano È rimasta questa Questa parte È margherita Normale Con il formaggio Lì C'è finito del tomino E qui C'è finito Del salame piccante E direi che è pronta Anzi Si sta quasi seccando Tutta Non sono convintissima Ora la facciamo Questo è quel che è venuto Per staccarla dalla teglia Le manovre cinesi Ho dovuto fare Si era tutta appiccicata Allora Sembra Buonina Più o meno Allora Il bordo È praticamente bruciato Cioè È croccantissima È buona Quella Quella con il salame Vabbè Ok Abbiamo capito Che io la pizza Non la so fare Mi sembra evidente Se uno non riesce Neanche col bimbi Alza le mani Comunque Il sapore è buonissimo È buona Allora Pezzettino È buona È buona Questo è un pezzettino Con il formaggio vegan Filare non fila Però così è molto meglio Non è male È buona È più buona Di quel che sembra Credo Comunque è incredibile Che sia venuta Cioè Non gli davo una lira Era mollissima Invece È bella Levitata È morbidosa È buona Sotto è croccante È buona Sono sconvolta Non me l'aspettavo Comunque Forse era Era caldissima Per questo Non riusciva a staccarla Sotto è così Nasciti Ammazzo Sopra è così Questa vabbè È quella col formaggio Uh Ruota Così Ragazzi Non è male Sapete Non potrebbe venire Di meglio Ma Questa non è affatto male E il formaggio Così Ha suo perché Poi là Allora Finita di mangiare Mi sono messa Sui capelli La maschera Ho messo Questa qui Coco and Eve Super nota Sponsorizzato ovunque Su Su Soprattutto su Instagram L'ho vista Anche su YouTube L'ho vista parecchio E la seconda volta Che la metto La prima volta L'ho messa Come da descrizione In doccia Cioè Mentre facevo lo shampoo Ho fatto questo trattamento E l'ho lasciato su 5-10 minuti Mi diceva Invece Invece Ho deciso di farlo Prima di far la doccia E tenerlo su un bel po' Vediamo se così È un pochino più efficace Cosa ne pensa di questa maschera Allora La prima volta che l'ho usata Sono rimasta abbastanza delusa Nel senso che È un impacco normale Cioè Era sponsorizzata Come se fosse la vita In realtà Niente di che Molto costosa Il barattolo Quello grosso Costa 39 euro Una roba Tipo 40 euro Questo qui Io l'ho preso da Sephora Ho preso il campioncino Diciamo Costava 16 euro e 50 Quanti millilitri sono? 68 Mi dura appunto Per due volte Forse ce n'è ancora Un pochettino Tre volte al massimo Vabbè I capelli sono piuttosto lunghi Però Non lo so Io onestamente Non la ricomprerei A meno che oggi Faccia una roba pazzesca Con questo tipo di impacco Onestamente Non credo che la ricomprerei Vabbè Lo vedremo insieme Dopo vi dico Se sono particolarmente morbidi O che Ora volevo fare una roba Youtube continua a chiedermi Di fare La scheda finale Dei video Io non ce l'ho pronta Non mi piacciono quelle preimpostate Stavo pensando di farla Magari mi metto qui E faccio quello Vediamo se riesco a farla Decentemente Se sono soddisfatta Cerco di fare una cosa carina Già che ho il tempo In questi giorni Di fare Di curare Tutto la grafica Del canale Dovrei anche cambiare La grafica Intera Del canale Perché è un po' vecchiotta Però vediamo Una cosa alla volta Ora facciamo la scheda finale Che non l'ho mai fatta Vediamo un po' di farla Allora ho studiato un pochettino E credo di saperlo fare Ora lo facciamo insieme Ho seguito un tutorial Di Justin Brown Che è uno youtuber Che ha qui 516.000 iscritti Rovina E il tutorial si chiama How to make A youtube and car template È molto chiaro Vi fa vedere passo a passo Come si fa Sto seguendo esattamente Quello che dice lui Quindi il mio template Sarà praticamente uguale al suo Però non facciamoci caso Perché il suo è molto carino E vediamo se riesco ad utilizzarlo Anche io Sono molto contenta Ora vi faccio vedere Come lo sto facendo Sono andata su questo sito Si chiama Snappa Al massimo vi metto Nell'info box Il tutorial Poi che ho fatto Ho fatto uno screenshot Della sua schermata finale Giusto per avere un template sotto Anzi aspettate che Opacizzo maggiormente Vai Questa è lo screenshot che ho fatto Facciamo finta che non ci siano Queste parti qua Ok Questo era il suo template Questa parte azzurrina È lo spazio in cui Tu puoi inserire i video Quindi il nuovo video Il video precedente Gli iscriviti Eccetera Come nel suo caso Poi che ho fatto Ho inserito le scritte Quindi facendo testo Aggiungi in testazione E ci ho scritto quello che volete Ad esempio ci ho scritto Iscriviti Ho scritto prossimo video Ho scritto De più 84 E ho inserito il logo di Instagram Per inserire i loghi Basta andare su grafica Che è qui Opla Anche per le freccettine Grafica Instagram Vedete L'ultima cosa che ho messo Ho messo E ho messo Ho inserito il logo Ora Poi ovviamente L'ho ridimensionato Così Ora lo cancelliamo Perché già c'è Ok E Lui mette questa grafica Carina Ad esempio Ora rimettiamo in Opacizziamo Lo sfondo Perché non voglio che Si veda il suo Poi qui Ho fatto Per sapere Per sapere la dimensione CTRL V Quindi ho fatto un copia Volendo si può fare Invece che CTRL C CTRL V Come ho fatto io Con la tastiera Si può selezionare Un elemento Questo l'ho fatto attraverso Grafica Anzi forme Ho fatto il quadrato E ho selezionato Lo spazio in cui ci staranno i video Però se volete Potete fare qui Duplicate Duplicate Lo ingrandisco leggermente Poco poco E lo vorrei bianco Quindi vado a selezionare Il colore Lo faccio bianco Ma facciamo così Questo Spostalo avanti Ok Questo Dovrebbe essere indietro Io voglio fargli un riquadro Quindi fondamentalmente Ok No è troppo piccolo Così almeno Quando inserire i video Avranno una cornicetta Ecco Questa è più o meno La dimensione corretta Quindi il prossimo video È decisamente troppo grosso Vedete Così mi ha fatto una cornicina Così Quando inserirò il mio video Avrà una cornice E nulla Ora ci lavoro E ovviamente Non si vedrà la sua faccia La sua faccia Mi serve giusto Per avere un'indicazione Ci metterò magari Il prato finto Che ho in terrazzo E qualcosa che mi caratterizzi Non lo so Ora vediamo Faccio una foto Ti metto di background E ora vi faccio vedere Quello che viene fuori Ho 15 anni Che ci lavoro È venuto fuori questo È molto semplice Allora Lì in alto Ho messo Il mio nome su Instagram Con il simbolone di Instagram Poi ho scritto Iscriviti E ho messo lo spazio Contornato di bianco Per il pulsante Di iscrizione Poi ho lasciato Due spazi Per gli ultimi video E per i suggeriti Da YouTube Praticamente Tu puoi scegliere Di mettere qualcosa Che YouTube Pensa che Per la persona Che sta guardando il video Possa essere interessante E basta A me sembra carino Che dite È disarmonico Non lo so Per essere la prima cosa Che ho fatto Nel primo tentativo Mi sembra utile Ora devo semplicemente Scaricare Quindi lì in alto C'è scritto scarica Proviamo a farlo insieme Ecco qua Freccina Scarica Sfondo Trasparente Perché se no Mi viene questa roba bianca Ed è un po' inutile E poi Penso questo Download Della tua immagine Proviamo subito A metterla Alla fine di un video Vediamo se riusciamo Proviamo giusto Per capire se funziona Questo è un video Che sto per pubblicare Importa media Importa Dai Funziona 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 Sì Vabbè Come prevedevo Era Cioè Queste immagini Non va bene Ovviamente In modo che sia Più centrata Ecco ora L'allungo Voilà Fatto Bellissimo No scherzo Dopo soltanto 9 ore di lavoro Guardando numerosi Altri tutorial Fra cui Questo qui Di Applecaffe Molto utile Su Final Cut Sono riuscita anche A fare il movimento Di camera Madonna come sono Imbranata Per il quale Quando c'è la schermata Vedete Diventa più piccolo E mi si vede Comunque la faccia Carino no Sono molto soddisfatta Ancora i capelli Più appiccicati Di sempre Sono passati 90 anni Probabilmente si è anche seccato Sì infatti Non è più neanche bagnato Prima di andare a lavare i capelli Però Voglio andare a Fare l'ultimo allenamento Del beginner shred Sono arrivata alla fine Non mi sembra vero Sono felicissima Che bello Domani non devo rifarlo Sono molto felice Di aver fatto L'hand card Per il canale Perché sono cose Che io ho sempre Voluto fare Ma non trovo Mai il tempo Di farle Perché effettivamente Quando lavoro Cioè non posso Mettermi lì due ore A capire come fare una roba Tra l'altro Una roba semplicissima Che ci si mette Dieci minuti a fare Ti ha disturbato amore? Sì La risposta è ufficialmente sì Mamma mia Questo cane mi odia Ecco Vabbè Giuro che compro un cavalletto Lo compro Mi sono messa Sul divano Fuori Ora mi faccio la doccia Ho aspettato un attimo Di sudare Anche perché Non so se vi capita Io quando mi allino tantissimo Che sono stanca morta E comincio a sudare Poi faccio la doccia E continuo a sudare Questa è una roba Che mi dà più fastidio Al mondo Quindi mi sono piazzata Qua sul divano Si vede Il riflesso E sì Ho tolto le scarpe E Ho smesso di sudare Sì Facciamoci una maschera Che così dopo Mi piazzo in doccia La sciacquo direttamente Vabbè Me la sono messa nei capelli Ma tanto ora li devo provare Quindi Chi se ne frega direi Ora oltre che i capelli secchi Per la maschera I capelli Ho anche La bocca La faccia secca Quindi Allora funzionare Non funzionare Non lo so Sta maschera non lo so Però Comunque ho un profumo Vabbè Vado a farmi Sta gioccia Li butto dentro Ho una faccia Oh ancora Sta macchina Non è andata via Comunque Che dici Ci asciughiamo Guardate dal dentro Così Ok Asciugati Inquadratura Dalla testa in su Se vi chiedeste Se l'impacco Da nove ore Che ho fatto È servita qualche cosa No Sono esattamente come prima Secondo me Poi magari domani Vediamo meglio Però Non li vedo più morbidi Li vedo esattamente Come quando li asciugo Normalmente Non lo so eh Poi magari mi sbaglio Però Sarò un po' Tenta al riflesso dietro Comunque Mi resto E tu che fai qui? Ma quanto sei carina Con quella zampettina Lì te la mangerei Mi aspetti davanti Alla porta del bagno Ciao amore Ciao La poppa l'hai fatta Vediamo se riesco A far vedere Come prendi bene Le medicine Allora Apri la bocca Uno Brava E apri l'altra Due Bravissima Sei brava Sei brava Sei un cane bravissimo Un biscottino fiorellino Il tuo preferito Tieni Brava Così si prendono le medicine Come i cani grandi Ho queste due melanzane Che stanno andando all'altro mondo Quindi è il caso di prepararle Le farò grigliate Niente di che Non è solito di usare Tutte e due le pentole Per far prima Ho semplicemente Unto un pelo La griglia E distribuisco Le melanzane Che ho tagliato A fettine Roba semplice Vediamo Ho dato un giro d'olio Anche sopra Si vede Sì di qua Che dirà Questa idea di grigliare 800 quintali di melanzane Fra l'altro Le prime tutte perfette Le ultime bruciate Olè Si dai sono pronte Ho degli avanzi Degli scorsi giorni Ho anche un pezzo di pizza Eventualmente avanzato Di quella vegana Ovviamente E ora Tiro su un pasto Non sono bellissimi Da vedere Però Ho questi carciofi ripieni Che ho fatto ieri sera Col bimbi E sono molto buoni In realtà C'è tutta questa cremina Super saporita Da mettere sopra Ok ora sono ancora più brutti Mi rendo conto Sono fatti con parmigiano Sono vegetariani Non vegani Quindi parmigiano Pangrattato Menta e prezzemolo Esatto E olio Triti tutto insieme E fai praticamente Il ripieno E poi Ho praticamente Cotto avaroma E con i gambi Ho fatto questa cremina Ed è olio Gambi Dado Brodo Il brodo che ho usato Per cuocere al vapore I carciofi stessi Quindi la rimanenza del brodo Troppo buone Me le mangiare tutte Credo che me le mangerò tutte Sono nuda Ho un vestito tremendo Che uso per il mare Perché devo fare la lavatrice Non ho niente di pulito Ma mangio questo pezzettino Di pane Di segale E tiro su Tutta la Puccettina Qua Neve l'anzane sono a quel punto Ne ho mangiato un quintale E sera Allora io ho guardato Mentre mangiavo Un episodio di Lie to me No Die to me Dead to me Forse è Dead to me Mi è sembrato molto carino Ho guardato solo il pilota Chi di voi l'ha visto? Ovviamente no spoiler Da quando sto facendo questa Ho fatto questa roba Del End card Di youtube Ho l'ansia di fare la prima L'immagine finale Ecco Deve essere che io Sono in un lato Della Della cosa qui Adesso lo imparerò Così qui Comparirà la schermata Che ho preparato oggi Mi è piaciuto molto Questo Questo primo episodio Mi sa che ne guarderò un altro Però prima Devo finire Abbiamo sempre vissuto nel castello Perché mi mancano una cosa Come 5 pagine L'ho mollato lì Non so come ho fatto E Finirò quello Quindi ora E Niente Spero che questa giornata Vi abbia intrattenuto Ora prendo Le mie pastiglie Per l'allergia Perché sto per morire Mi sento proprio morire E Vi auguro Buonanotte Se vi è piaciuto Questo video Stavo per dire Mettete mi piace Mettete mi piace Se vi è piaciuto E se vorrete Ci vediamo La prossima volta In un altro video Ciao